Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi una partita storica che mi avete richiesto nei commenti. Siamo nel 1953 al mitico torneo dei candidati di Zurigo e al 24esimo turno si sfidano due dei giocatori che stanno lottando per la vittoria finale. Due giganti della storia degli scacchi, Paul Keres di bianco e Vassili Smiso di nero. Il torneo però è alle sue fasi conclusive con Keres che è dietro Smiso di mezzo punto e non vuole lasciarsi sfuggire di bianco la possibilità di superarlo. E allora like al video e partiamo subito. Perché Keres di bianco apre con C4, l'apertura inglese, Smiso risponde con cavallo in F6, arriva cavallo in C3, E6, cavallo in F3. Adesso D5 ed alfiere in B4 sono le mosse più giocate e invece Smiso gioca l'interessantissima C5. Siamo nella difesa Agincourt nella quale la continuazione largamente più giocata dal bianco è aprire subito il fianchetto con G3. E invece Keres sceglie E3 per spingere in D4, il nero sviluppa l'alfiere in E7, arriva B3, scusate mi stavo impappinando per fare un commento poi, per dire arriva B3 che va benissimo. Arrocco corto per il nero, alfiere in B2, B6 stessa idea no? Ha anche Smiso, va anche il nero vuole piazzare il suo alfiere in fianchetto. Come dicevamo Keres spinge al centro con D4, C per D4 è il pedone E che ricattura e arriva D5. Ora fermiamoci un secondo, il bianco, almeno ad alti livelli, non cambia il pedone in D5. Come mai? Perché quando questo gli riprende di cavallo il bianco rimane subito, subito, con il pedone isolato e addirittura la possibilità... Si trova subito in difficoltà perché addirittura il nero minaccia di cambiargli subito un pezzo leggero. Quindi un'idea che favorisce il nero. E allora cosa fa Keres? Non lo cambia, gioca alfiere in D3, arriva cavallo in C6, arrocco corto anche per il bianco. Alfiere in B7, quindi tutto nella norma. Pensate, ora all'epoca no, ma al giorno d'oggi aprendo il database ufficiale di Chessbase, ci sono ancora centinaia di partite moderne con questa posizione. Per esempio una bella vittoria di Carletto, di Karzen, di nero contro Svidler del 2020. Ma sappiamo, lui con qualsiasi apertura riesce sempre a porre grossissimi problemi all'avversario. E allora arriva torre in C1, anche il nero piazza la torre in C8, quindi sulla colonna semiaperta. Centralizzazione anche della seconda torre, arriva cavallo in B4. Bella idea, cosa fa? Libera la colonna, l'alfiere non può rimanere sulla diagonale più aggressiva perché deve continuare a proteggere il pedone in C4 due volte sotto attacco. Allora Keres porta indietro questo alfiere in F1 e arriva un'altra bella idea, cavallo in E4. Qui c'è il solito discorso che facciamo spesso, non conviene al bianco, in questo caso andare a doppiare i pedoni del nero col pedone in E4. Tant'è che Keres non lo farà, come mai? Perché dopo cavallo per cavallo, non giocata in partita, il pedone di ricattura con tempo. Dopo cavallo in D2 arriva F5, l'idea è piazzare l'alfiere camposcuro, attaccare il centro, il nero ha come minimo equalizzato. E allora cosa fa Keres? Gioca A3, che attacca il cavallo, arriva all'intermedia, cavallo per cavallo in C3, la torre ricattura, cavallo sotto attacco torna in C6. Ora in questa posizione, in questa posizione molto interessante sarebbe stata la spinta C5 non trovata, non trovata da Keres, con l'idea di tentare di creare in futuro un pedone passato, e addirittura di rafforzarlo con B4. E invece cosa fa Keres? Gioca cavallo in E5. Non è una grandissima idea, e allora Smisov cambia i cavalli, ma niente di trascendentale. La torre, Keres ricattura di torre, e questa è l'occasione per Smisov di cambiare diagonale all'alfiere camposcuro. Alfiere in F6 attacca la torre, ma qual era l'idea del bianco? Dove metterà la torre Keres? Ci farà capire quali sono le sue vere intenzioni. Arriva torre in H5, il bersaglio è chiaramente il castello del re nero, e quindi Keres giocherà per aumentare il numero di pezzi che puntano sull'arrocco per l'attacco da matto. E allora bisogna difendersi con molta cura, e ci sono due idee difensive altrettanto interessanti. Non giocata in partita, ma molto simpatica, è D per C4, che cosa fa? Libera, vedete? L'alfiere campo chiaro, perché dopo B per C4, alfiere in E4, con l'idea di riportarsi in G6, e rafforzare veramente una difesa fortissima verso il suo re. Invece cosa fa Smisov? Gioca G6, mossa altrettanto ottima, torre sotto attacco, Keres la lascia in presa, raddoppio delle torri sulla colonna H. Questa torre però è intoccabile, tant'è che Smisov non catturerà. Come mai? Perché dopo pedone per torre in H5, la donna ricattura, e qui si minaccia scacco matto, e allora bisogna giocare torre in E8 per fare cosa? Per liberare la via di fuga al re, ma dopo A4, con l'idea alfiere in A3, a gioco corretto, il nero è perduto. Naturalmente l'idea principe, adesso il nero, sarà impedire questo alfiere in A3, quindi andrà a giocare donna in D6, ma a gioco corretto. Troppo forte, troppo forte questo attacco, questo attacco del bianco. Certo c'è ancora parecchio da lavorare, ma è a questi livelli. Quindi giustamente Smisov non cattura, ma cambia adesso in C4. E allora, torre per pedone in H7, siamo arrivati al nostro quizzone. Guardate, questo di Keres è un attacco un po' crudo, come direbbero gli inglesi, ma guardate, questo è un attacco che fa paura. C'è una sola mossa, una sola mossa che salva il nero. E allora siamo arrivati al nostro quizzone. Mettete pure in pausa, ed a voi la parola. Ritorniamo a noi, l'unica mossa buona è giocare, come ha fatto Smisov in partita, C3, pedone anche se attaccato due volte, intoccabile, si minaccia e si vincerà il pedone centrale. Come mai intoccabile? Perché se alfiere per pedone non giocata in partita, torre per alfiere vince un pezzo, perché se torre per torre, il re cattura direttamente in H7. Praticamente il nero rimane con l'alfiere di vantaggio. E allora dopo C3, donna in C1, guardate cosa vuol fare. Vuole andare a dare matto, perché vuole entrare, vuole l'invasione della donna in H6. Ma qui il discorso è attivare la propria donna, donna che cattura il pedone in D4, donna in H6, la minaccia del matto c'è lo stesso, anche se le case scure sono protette. Come mai? Andiamo a giocare una mossa stupida. Dopo alfiere in A8, cioè il sacrificio di torre, in H8 con scacco, l'alfiere cattura il matto, la donna lo dà in H7. E allora dopo donna in H6, bisogna fare spazio al re, torre in F va in D8. Keres salva l'alfiere sotto attacco, lo porta in C1, ma adesso non vuole lasciargli ancora tempo di manovrare Smisov. Alfiere in G7, attacca e scaccia la donna. Donna che si sposta in G5, che si fa? Si cerca il cambio donne, il difensore cerca sempre il cambio donne. Donna in F6 cerca il cambio donne, naturalmente il cambio delle donne, il bianco è perduto, e allora Keres la donna la sposta in G4, arriva C2. Qual è l'idea? L'idea è giocare torre in D1. E allora alfiere in E2, siamo alla mossa 26. Qui c'è addirittura la possibilità di migliorare quanto fatto in partita da Smisov. Cosa ha fatto questa mossa? Fierine in E2 va a proteggere una seconda volta la casa di uno, ma guardate, libera, scopre la prima traversa. E allora donna in A1 non giocata da Smisov sarebbe stata un'inchiodatura micidiale? Non c'è modo di salvare l'alfiere. F3 considerata mossa migliore. Donna per alfiere in C1 con scacco. Re in F2. La donna si sposta. Inchioda l'altro alfiere questo, il pedoncino va a donna. E invece Smisov gioca un'altra mossa comunque forte. Torre in D4 attacca la donna del bianco. Arriva F4 che fa da scudo, ma adesso torre in D1 con scacco e minaccia anche l'alfiere. E dopo, sacrificio di qualità, dopo che l'alfiere ha catturato in D1, arriva donna in D4 con scacco. E pensate, è già scacco matto forzato. Paul Keres abbandona. Andiamo a vedere cosa sarebbe successo. Inutile andarsi a proteggere di alfiere, perché il pedone cattura, diventa donna e si cambiano le donne. Donna per donna, ma il nero ce n'è una in più. La donna ricattura in D1 con scacco. Re in F2. Torre in C2 con scacco. Re in G3. Torre supportata dall'alfiere, cattura in G2 con scacco. Re in H4. Matto di alfiere da F6. Smiso vincerà il torneo dei candidati e sfiderà, dopo questo torneo, il campione del mondo in carica, Botvinnik, in un drammatico match che finirà in parità dopo 24 partite. E quindi Botvinnik rimase per il momento campione del mondo. Eh, ci sono tante idee su questa partita. Per Gary Kasparov, questo fu un crollo psicologico di Keres, proprio a inizio partita, secondo Kasparov, che non avrebbe mai dovuto giocare in maniera così rischiosa, lui, alle brutte, si sarebbe portato a casa anche una patta e avrebbe aspettato tempi migliori se la partita non gli avesse regalato il punto pieno. Ditemi voi cosa ne pensate nei commenti. Io spero che la partita vi sia piaciuta. Bella difesa, un bel contrattacco. Poi una partita storica da conoscere. Io, come al solito, vi ringrazio tantissimo per l'ascolto e noi ci vediamo sabato con un nuovo video. A presto!